buonasera a tutti siamo qui con bio de janeiro ingegneria biomedica printf ingegneria matematica mz com'è andata questa partita bene bene dai abbiamo vinto i rigori siamo contenti è andata male è andata male decisamente male potevamo diciamo che potevamo portareci la casa facilmente ma tanti errori anche l'impostazione tanta sfortuna anche perché ci vuole quella nel calcio però useremo questa sconfitta per darci ancora più diciamo gallina per usare un termine tecnico per il prossimo torneo quindi siamo sicuri di rivedervi ai campionati primaverili certamente certamente quindi contenti per questo questo sedicesimo era la fase eliminazione ci vediamo per la prossima partita ci sarai di nuovo e avete un motto qualcosa da urlare per questo passaggio obiettivo andare sullo yacht di ricky se vinciamo il torneo facciamo una festa sul suo yacht e invitiamo tutto il polio che mi invita anche a me bene ragazzo io tifo tantissimo per loro sapete che tipo tantissimo c'è un ragazzo che noi conosciamo è il presidente della presidente della squadra che l'anno prossimo parteciperà con la squadra di gestionale salutiamo flavio festeggiate comunque questa bella partita torneo cioni ci ha reso più uniti di prima aspettate la cribuccia bene e ragazzo un piacere conoscervi e non vedo la di rivedervi è tipo dare cheüm чтобы ervar Rhino sa tr ال vocêOO quindi il il